ma c'è un ma adesso devi andare sulla ruota tu cricetino oi oddio parlo anche spagnolo adesso ok benevole o comunque malvagie no oggi il criceto ha deciso di fare ginnastica bene ciao a tutti io sono stefano e bentornati in un nuovo video di hot and cold la rubrica dove vi parlo dei giochi che ho provato per la prima volta nell'ultimo mese nel mese di marzo sono ben sei i giochi che ho provato per la prima volta un sacco di novità ma anche di anteprime però come sempre prima di parlarvi nel promotion time se volete supportarmi e perché no anche sopportarmi vi invito a lasciare un mi piace commentare e condividere il video iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più anche perché il traguardo dei 2000 è davvero molto vicino inoltre sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link di affiliazione per acquistare i giochi citati in questo video insieme ai vostri preferiti come sempre a voi non costeranno niente di più ma così facendo supporterete il nostro canale aiutandoci a migliorare ancora ed ancora inoltre se siete di padova o comunque nei dintorni vi aspettiamo anche direttamente i negozi per fare i vostri acquisti e perché no anche per giocare e ancora giocare visto che c'è una ludoteca gratuita inoltre sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link per tutti i nostri social sito facebook e instagram quindi vi aspettiamo anche lì proprio oggi che esce questo video sulle nostre storie di instagram troverete anche le schede dei giochi citati in questo video dove voi potrete dire se sono top o flop se sono hot oppure cold quindi vediamoci un attimo il video e vi aspetto anche lì o cominciamo subito sigla il primo gioco di cui voglio parlare oggi è star wars the deck building il nuovo titolo dargato asmodè non mi soffermerò troppo sulle regole di questo gioco perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita e inoltre qui in alto tra le schede anche la mia video recensione come vi ho già detto sono stato spinto dalla community dalla curiosità della community per vedere un po com'era questo gioco visto che a me la fantascienza proprio non piace assolutamente tanto da non aver visto nemmeno cinque minuti di un qualsiasi film di star wars però devo dire che fortunatamente l'ho provato perché altrimenti l'avrei snobbato perché il gioco mi è piaciuto particolarmente è un classico gioco di deck building per due giocatori uno farà l'impero l'altro farà i ribelli la cosa particolare quindi andremo a comprare carte per migliorare il nostro mazzo diventare sempre più potenti per abbattere per primo tre basi avversarie le cose particolari sono due la prima è che potremo attaccare le carte nemiche che sono presenti nella galassia quindi nel mercato il che ci daranno magari più risorse che ci serviranno per comprare più carte quindi sì non attaccheremo magari in modo prepotente la base avversaria ma ci permetterà di comprare carte più forti quindi potenziarci di più l'altra cosa che poi mi è piaciuta è il tracciato della forza questo tracciato fatto da sette caselle con un indicatore centrale che sposteremo man mano dalla nostra parte ma farà così anche l'altro giocatore quindi si crea questo tiro alla fune se il cubetto è della nostra parte significa che la forza è con noi quindi tutti quegli effetti delle carte con la dicitura se la forza è con te bla 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 si attiveranno quindi rendendoci molto più forti quindi si crea anche questa interazione tra i giocatori che già è accentuata dal contrasto che c'è sul mercato quindi sul combattimento del mercato ma anche per quanto riguarda questo tiro alla fune come vi dicevo per avere la forza con sé e quindi di conseguenza depotenziare l'avversario mi è piaciuto parecchio è un sistema di gioco che comunque la meccanica mi piace anche se l'ambientazione mi lascia del tutto indifferente e secondo me essendo molto basico come gioco si appresta anche a molte espansioni ma comunque non mi dilungo troppo come vi dicevo trovate in descrizione sia la recensione che la video recensione se vi interessa buttateci un occhio non può comunque che finire anche a mia sorpresa tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste due settimane non è vero in questo ultimo mese scusate il secondo gioco di cui vi parlo oggi è un'espansione vi parlo infatti dell'espansione a tema egitto di mystery house quella del faraone non mi soffermerò troppo sulle regole del gioco base o comunque di come funziona il meccanismo del gioco perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita con questa nuova avventura saremo catapultati nell'egitto quindi la cosa particolare di questa espansione è che oltre avere la classica struttura in 3d dove andare a guardare dentro avremo anche questa piramide da costruire proprio sopra grazie a queste fustelle a queste carte fatte in modo strano che andano a formare proprio la piramide che man mano andremo a sgretolare andremo a togliere per addentrarci sempre di più molto bella molto particolare sia per quanto è strutturato il gioco come sempre quindi sì alcuni enigmi ma che sono basati prima sul vedere riconoscere quello che c'è all'interno di questa struttura all'interno di questa casa quindi molto fisica poi cercare di andare a incastrare al meglio i vari oggetti per poi avere così l'enigma da andare a risolvere bello l'effetto della piramide che man mano si apre per entrare sempre di più ovviamente enigmi sempre ben aderenti al tema e questa cosa mi è piaciuta mi è piaciuta un sacco questa espansione devo dire ma c'è un ma non è andato non è andato a rovinare l'esperienza di gioco ma c'è un errore per quanto riguarda un determinato enigma non vi farò spoiler però c'è un enigma che come posso dirvi senza farvi spoiler riguarda un orientamento di determinate cose statue che dovrebbero guardare da un lato rispetto a un altro è sbagliata secondo me la traduzione se vi capita fate esattamente l'opposto vi faccio un esempio se dice che guarda su in realtà sta guardando giù ecco mettiamola così però non si capisce abbastanza velocemente dove sia l'inghippo non ha almeno per quanto mi riguarda influito sull'esperienza di gioco che mi è piaciuta davvero tanto giusta la difficoltà belli i colpi di scena soprattutto anche bella la struttura e la grafica anche questo va a finire tra il mi piace dei giochi che ho provato in quest'ultimo mese ma attenzione all'errore se vi incastrate potrebbe essere per quello il terzo gioco di cui vi voglio parlare oggi è un anteprima un anteprima kickstarter infatti vi parlo di egrego anche di questo gioco non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita in questo gioco soi soi oddio parlo anche spagnolo adesso ok in questo gioco noi saremo delle entità benevole o malvagie che andranno ad impossessarsi delle persone che ci sono in questo villaggio e condizioneranno le loro scelte fino alla loro morte i giocatori sono divisi in diverse fazioni buoni cattivi e caotici i cattivi dovranno cercare di mettere il maggior numero dei propri segnalini sul tabellone quindi andare ad influenzare con le proprie entità malvagie i vari villeggianti non è vero villeggianti ma i vari villici del villaggio stessa cosa dovranno invece fare i buoni quindi avere il maggior numero di segnalini del proprio tipo sul villaggio per quanto riguarda invece i caotici è la parte un po più difficile dovranno cercare di fare in modo che il numero dei due segnalini delle due fazioni sia lo stesso quindi andare un po bilanciare le cose il gioco è molto semplice noi andremo a lanciare i dadi ci diranno quali villici potremo attivare manderemo così le nostre entità e metteremo il nostro segnalino all'inizio poi del nostro turno in realtà ogni volta che c'è già un entità sul campo di gioco aumenterà quindi la sua potenza mettendo già un altro segnalino se poi i dadi non attiveranno nessun abitante andremo a prendere un malacarte dal mazzo che potrebbe ampliare il villaggio darci più dadi quindi avremo più possibilità più scelta su quali abitanti andare ad attivare nei prossimi turni se continua così finché il mazzo non sarà finito vincerà poi chi a seconda della fazione avrà il maggior numero di segnalini un gioco molto semplice l'interazione è molto diretta tra i giocatori funziona bene sia in 3 4 5 6 giocatori ovviamente più si è più si allunga un attimino i tempi molto bella la grafica uno stile che a me piace particolarmente seppur minimal c'entra pienamente l'ambientazione ovviamente il fattore fortuna è abbastanza preponderante per quanto riguarda i dadi ma ci sono dei modi per arginarla soprattutto per quanto riguarda le possessioni a catena quindi anche come metteremo poi le varie carte quindi come amplieremo il villaggio può cambiare un po l'esito della partita magari qualche piccolo problema per quanto riguarda un po la funzionalità e quindi un po la gestione del gioco ma ci sono anche qui dei piccoli trucchi che vi parlo nella recensione che si possono attuare quindi nessun problema davvero molto molto carino semplice ma intrigante anche questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in quest'ultimo mese il quarto gioco di cui voglio parlare oggi entriamo nel mondo di frozen perché vi parlo di double frozen 2 allora è double praticamente quindi questo è il gioco però prima di girare la clessidera voglio fare una piccola premessa perché per me frozen 2 è il mio cartone preferito sia della disney che un po in generale sarà un po controcorrente ma mi è piaciuto parecchio anche più del primo per diversi motivi personali e non quindi ero super gasato quando ho visto che c'era anche la versione di double di frozen 2 appena l'ho vista non poteva non entrare nella mia collezione questo gioco è il classico gioco di double quindi avremo queste carte dovremmo cercare in diversi meccanismi comunque cercare sempre qual è il simbolo in comune tra una carta e l'altra qualsiasi abbinamento faremo con le carte ci sarà sempre un simbolo in comune quindi questa cosa per me è pura magia è una cosa so matematica però il fatto che qualsiasi abbinamento tu faccia ci sia un simbolo è wow il gioco è sempre quello ce ne sono cinque dentro uno due sono un po diversi la cosa che però mi ha lasciato alquanto perplesso e che pensavo fosse una copia fallata ma purtroppo non è così è che dentro ci sono tipo 30 carte c'è generalmente la metà di quelle che sono presenti nella classica confezione quindi questa cosa mi ha fatto restare un po male infatti tutti i giochi sono quasi depotenziati perché a volte potrebbero richiedere di trovare il simbolo in comune con la carta che c'è al centro tra le quattro che poi abbiamo davanti a noi quindi giochiamo con sempre poche carte per carità la grafica è quello che è quella che io amo molto bella anche questa scatola sbrillucicosa avrei preferito ci fossero più carte ovviamente lo consiglierei a chi ama particolarmente come me frozen o frozen 2 soprattutto perché bisogna comunque sapere i nomi in velocità o comunque saper identificare gli oggetti e quindi altrimenti potrebbe capitare di chiamare dai sì coso cosa dai quella lì quella la e quindi questa perde un attimino il senso del gioco peccato però che ci siano poche carte per quanto io possa amare frozen è più per collezionismo che l'ho preso perché mi ha un po' deluso per questo motivo anche se ho la morte nel cuore devo metterlo tra i non mi piace dei giochi che ho provato in queste due settimane non in queste quattro settimane ed è un peccato anche se sta per uscire quello della disney quindi sono di nuovo in fermento il quinto gioco di cui vi voglio parlare oggi è il nuovo unmatched udini contro il genio della lampada anche di questo gioco non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita e chissà magari qui in alto molto presto anche il nostro gameplay voi sapete già quanto io ami tutta la linea di unmatched quindi quando ho visto questa nuova scatola ero in super hype perché proprio il genere e comunque il filo conduttore quindi la magia mi piace particolarmente allora abbiamo udini che è un mago quindi magheggia un po con le carte le scambia alla compagna quindi i best si scambieranno di posto ma soprattutto ha la particolarità che se potenzia il suo movimento può andare ovunque sulla mappa e le sue carte oltre ad avere il classico valore di potenziamento quello nel cerchietto ha anche un effetto di potenziamento quindi se useremo quelle determinate carte per potenziare attacco oppure il movimento si attiverà anche quell'effetto quindi sei sempre in incerto se usare una carta per il valore se usarla per l'effetto appunto classico della carta o l'effetto del potenziamento quindi hai un sacco di scelte da fare un sacco di magheggi quindi ti sposti appari scompari attacchi e scompari e così via ma ciò vi costerà davvero tante tante carte quindi usatele al momento giusto perché a me molto spesso mi è capitato di auto infliggermi danni perché non potevo più pescare carte dal mio mazzo perché era finito il contro il genio è un po più veloce però ha delle carte davvero molto forti e molto particolari come i tre desideri oppure desiderare più desideri quindi darà magari dei piccoli bonus all'avversario per avere grossi bonus per sé inoltre all'inizio del turno potrà gettare via una carta per avere un'azione in più e generalmente darà anche danni dopo il classico combattimento ai combattenti che sono vicino a lui quindi si genera molta interazione tra questi due personaggi per quanto riguarda il bilanciamento devo dire che all'inizio il genio sembra fortissimo imbattibile però giocando varie volte sempre con Udini ho scoperto che il suo punto forte è quello di apparire e scomparire quindi lui deve apparire vicino al genio attaccare e scomparire il prima possibile mai restargli vicino infatti facendo tante partite sempre con la stessa persona e sempre con gli stessi personaggi il divario sempre di vite con cui rimaneva il genio quando vinceva era sempre meno quindi prima 10 poi 7 poi 3 poi 1 non ho ancora vinto con Udini ma ci sono davvero molto molto vicino quindi a mio parere anche per quanto riguarda la grafica la palette i colori usati va sicuramente nella mia top 3 perché mi piacciono parecchio questi personaggi e proprio sono ben centrati sono ben proprio l'anima dei personaggi è ben caratterizzata nel mazzo e questo è davvero come sempre il punto forte di questa linea di queste scatole quindi come avrete capito non può che finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in quest'ultimo mese e senza alcun dubbio è il mio gioco preferito di questo video e di questo mese il sesto e ultimo gioco di cui vi parlo oggi è solar sphere anche qui un altro gioco fantascientifico che a pelle non mi ispirava per niente me l'hanno mandato l'ho provato e wow me ne sono letteralmente innamorato anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole perché sono abbastanza ma qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita in questo gioco la terra ha finito l'energia le risorse l'unico modo per sopravvivere è costruire questa sfera di daison che sfrutta l'energia del sole per poi convertirla e utilizzarla appunto per la sopravvivenza molti capitani sono stati incaricati di questo incarico scusate il gioco di parole chi riuscirà a primeggiare ma come non bastasse se la missione non fosse già abbastanza complicata anche dei ribelli ci metteranno i bastoni tra le ruote perché non vogliono che questo progetto vada a buon fine il che si traduce in una gestione di risorse sempre molto poche da centellinare per andare a fare le varie cose che vorremmo fare ma poi anche per quanto riguarda una gestione dadi infatti noi avremo questi dati da lanciare che avranno un valore in base al valore potremo attivare determinate azioni che sono un po i luoghi attorno alla sfera potremo andare a costruire droni che ci serviranno per fare determinate azioni come costruire la sfera attaccare i ribelli o così via oppure potremo fare altre cose quindi a recuperare risorse e eccetera eccetera soprattutto se un'azione è già stata fatta sia da noi che da qualcun altro ci costerà di più quindi scegliere per primo quando partire o cosa fare è fondamentale il gioco a pochissimi turni sono solo sei round di gioco è impossibile fare tutto quindi devi anche scegliere di volta in volta a cosa fare e a cosa dare la priorità mi è piaciuto tantissimo perché c'è molto da pensare ci sono un sacco di cose da fare diversi modi per fare punti e tutti ben bilanciati come vi dicevo non mi ispirava per niente per via dell'ambientazione ma devo smetterla di fare questa cosa perché ogni volta che dico una cosa del genere e poi provo il gioco mi rimangio sempre le mani e le parole perché veramente mi è piaciuto tanto gestione dadi gestione risorse molto stretto molta interazione tra i giocatori ecco quello che mi è piaciuto proprio il fatto di essere stretto molto stretto uno o due mosse potrebbe essere potrebbe costarvi anche la vittoria ma non vi lascerà mai così indietro da dire no ok non ce la farò mai una cosa che mi è piaciuta è il fatto che ci sono questi due tracciati della reputazione e del morale noi potremmo spendere morale quindi indietreggiare e magari perdere punti per avere poi dei bonus durante il nostro turno quindi anche quei scegliere se perdere un po di morale quindi un po di punti per avere dei bonus se ne vale la pena oppure no magari così per potenziare il nostro turno un sacco di cose da fare bello 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 devo dire che ero indeciso tra questo e l'altro se metterlo tra i mi piace o meglio se essere il top dei top quindi essere il mio gioco preferito perché unmatched e solar sphere se ne sono giocate veramente al photo finish ma è sicuramente uno dei miei giochi preferiti che ho provato in quest'ultimo mese e questi erano i sei giochi che ho provato per la prima volta nel mese di marzo un sacco di novità devo dire che quasi tutte mi sono piaciute vabbè per frozen comunque dentro il mio cuoricino c'è un posto anche per quello e devo dire però che questo mese sono caduto bene un po' meno giochi rispetto al solito però giochi che mi sono piaciuti parecchio scrivete poi come sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi cosa vi ispira cosa non vi ispira cosa avete giocato a cosa non avete giocato quali sono magari i vostri top e flop del mese come sempre io vi leggo e quando posso vi rispondo inoltre come sempre vi invito a lasciare un mi piace e commentare e condividere il video iscrivetevi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti e fare tutte quelle diavolerie che si fanno qui su youtube inoltre sempre qui sotto in descrizione troverete i link d'affiliazione per acquistare i giochi citati in questo video e insieme ai vostri preferiti come sempre a voi non costeranno niente di più ma così facendo supporterete il nostro canale il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora e perché no se siete di padova o nei dintorni potete fare i vostri acquisti anche direttamente in negozio vi aspettiamo anche lì magari anche solo per giocare perché c'è una ludoteca gratuita come vi dico sempre e inoltre sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link per tutti i nostri social sito facebook e instagram vi aspettiamo anche lì perché oggi che esce questo video sulle storie di instagram troverete le schede dei giochi citati appunto in questo video dove voi potrete dire se sono hot oppure cold se sono top oppure flop vi aspettiamo anche lì andate a dire la vostra e noi ci vediamo al prossimo video ciao